Presentato a Palermo il nuovo bando che farà ripartire la formazione ordinaria e professionale in Sicilia, che sarà pubblicato entro la prima decada di marzo. A confermarlo è l'assessore alla formazione La Galla. Dopo tre anni di assenza darà speranza ai tanti che operano nel settore. Dopo anni di ricorso con l'avviso 8, il nuovo governo proverà a sbloccare la situazione di stallo che si era venuta così a creare. Novità anche per gli allievi nel settore formativo scolastico. In conferenza stampa abbiamo presentato il nuovo bando che fa ripartire la formazione ordinaria e che pensiamo di pubblicare entro la prima decada di marzo. Questo dovrebbe ridare respiro e credibilità al sistema che si rimette in movimento dopo oltre tre anni di stasi. Abbiamo già nello scorso mese di gennaio varato il bando che garantisce continuità di risposta agli allievi dell'obbligo formativo sostitutivo dell'obbligo scolastico, ma anche in questo caso è insufficiente perché abbiamo necessità forte di intervenire sulla scuola, tanto sul versante dell'edilizia scolastica quanto su quello dell'organizzazione della rete scolastica e del prolungamento del tempo scuola. Abbiamo bisogno di intervenire sull'università e della ricerca come volani possibili dello sviluppo. Insomma ancora un lungo periodo e percorso di lavoro attende questo governo e noi speriamo di poter dispiegare questa azione nell'interesse reale della Sicilia e dei siciliani.